Buongiorno a tutti, grazie a Telenorba per questa occasione. Sono Michele Campanaro, rappresentante per la provincia di Matera dei medici di medicina generale. Approfitto di questa disponibilità di Telenorba per fare il punto sulla situazione e sulla vaccinazione anti-influenzale nella nostra regione. Normalmente negli anni passati la regione a fine ottobre ci forniva il fabbisogno totale per poter vaccinare tutti gli aventi diritto, soggetti over 65 e soggetti affetti da patologie croniche. Quest'anno invece, dopo aver suggerito a tutti i cittadini over 60, quindi ampliando la platea, di vaccinarsi per l'influenza per ovvi giusti motivi, a fine ottobre la regione ha fatto pervenire ai medici di medicina generale soltanto metà del quantitativo necessario, dicendoci che comunque tutto il restante fabbisogno sarebbe stato erogato da lì a poco. E noi, così abbiamo detto ai nostri cittadini, abbiamo vaccinato una prima parte a fine ottobre, primi di novembre, dicendo a tutti gli altri che ovviamente erano rimasti scoperti, dicendo che non vi preoccupate, abbiamo tutto il mese di novembre fino ai primi di dicembre per poter proseguire e completare il programma vaccinale. La regione, con varie sollecitazioni, ha sempre procrastinato di settimana in settimana l'arrivo del restante quantitativo, fino all'altro giorno in cui scopriamo, da fonti aziendali, della nostra azienda sanitaria di Matera, che il quantitativo che verrà erogato coprirà a stento un quarto dei restanti avete diritto. Vi faccio il mio esempio, ma è la media di tutti i miei colleghi. Io su altri 100 pazienti che devo vaccinare avrò soltanto 15-20 dosi di vaccino. Questo significa per noi dover operare una scelta tra chi è pneumopatico e chi è cardiopatico. Preferire l'anziano, ultrasettantenne magari, a un giovane pneumopatico. Questa scelta per noi è immorale. Noi non possiamo discriminare i cittadini, né possiamo operare delle scelte di favore. Il nostro lavoro si basa sul rapporto di fiducia col cittadino. Noi non possiamo permettere a nessuno di creare una frattura in questo rapporto. Quindi noi abbiamo deciso che se non verranno rese note numeri veri e tempistica certa con cui potremo avere tutte le restanti dosi di vaccino, se la quantità di dosi sarà quella che hanno detto questa quota a Montesigua, noi non andremo a ritirare la restante quota di vaccini e inviteremo i nostri cittadini a recarsi alla ASL e sarà l'azienda sanitaria che si prenderà la responsabilità di decidere chi e come e quando fare la dose di vaccino. A noi non interessa sapere di chi è la colpa, della regione, delle aziende sanitarie, delle aziende farmaceutiche. Certo la colpa non è la nostra. Noi non possiamo litigare con i nostri pazienti. Litigare con i pazienti significa incrinare il rapporto di fiducia e quindi incrinare e rendere inutile il lavoro che noi normalmente facciamo con i nostri cittadini. Siamo noi che abbiamo convinto i cittadini negli anni a vaccinarsi e non possiamo essere noi adesso a negargli questo diritto. E' una situazione assurda e non saremmo mai voluti arrivare a questo e speriamo ancora che la regione ci dia dati e tempistica certa per poter invece completare con serenità la campagna vaccinale. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti e buona giornata.